A 50 anni dallo storico incontro a Roma tra il Beato Paolo VI e l'Arcivescovo di Canterbury, Michael Ramsey, la celebrazione dei Vespri nella chiesa dei Santi Andrei Gregorio Alcelio ha voluto ricordare quel passaggio, che segnò anche l'avvio del dialogo teologico e di evangelizzazione comune tra cattolici e anglicani. Momento centrale dei Vespri è stato l'invio missionario di 19 coppie di Vescovi, un cattolico e un anglicano, per i loro continenti, uniti con le parole e i fatti a servizio dei più deboli. Nell'Omedia Papa Francesco ha ribadito che la missione dei pastori è annunciare il Vangelo, al di là dei circoli ristretti e dei microclimi ecclesiali, imitando i grandi missionari per rivitalizzare la Chiesa. E condividendo concretamente le difficoltà e le gioie del Ministero, che ci riavviciniamo gli uni agli altri, che Dio vi conceda di essere promotori di un ecumenismo audace e reale, sempre in cammino nella ricerca di aprire nuovi sentieri, di cui beneficeriamo in primo luogo i vostri confratelli nelle province e nelle conferenze episcopali. Si tratta sempre, anzitutto, di seguire l'esempio del Signore, la sua metodologia pastorale, che il profeta Ezechiele ci ricorda. Andare in cerca della pecora perduta, ricondurre all'ovile quella smarrita, fasciare quella ferita, curare quella malata. Solo così si raduna il popolo disgregato. Nella dichiarazione comune firmata prima della cerimonia, il Papa e l'Arcivescovo Welby hanno ribadito la volontà di superare gli ostacoli esistenti e la volontà di collaborare per la cura del creato, la carità e la pace.